sono convinto che cerca la metà di quello che separa gli imprenditori di successo da quelli che non hanno successo sia la pura perseveranza steve jobs e se lo dice steve jobs possiamo crederci in questo video parlo di idee imprenditoriali però voglio dirti subito una cosa questo non mi farà prendere tantissimi like ma voglio chiarire questo concetto non è l'idea in sé che ti farà svoltare ma l'esecuzione dell'idea quindi come metti in pratica quell'idea questo è quello che fa la differenza puoi avere un'idea grandiosa ma siamo miliardi e quindi qualcun altro avrà l'idea che hai tu e come la mette in pratica quell'idea che fa la differenza altra cosa che voglio chiarire subito non devi scegliere un'idea perché io ti parlo di quell'idea oggi in questo video ma devi sceglierla perché è quell'idea coerente con i tuoi valori e quello che ti piace fare e quell'idea che magari avevi già da un po di tempo e io l'ho ripetuta in questo video ma deve venire da te perché dovrai impiegarci nel tempo e non puoi fare qualcosa solamente perché qualcun altro ti dice o questa è un'idea che può funzionare ok in questo video quindi ti parlerò di 13 idee imprenditoriali che possono andare bene oggi e nel futuro che vanno bene oggi e nel futuro e poi ti racconterò perché la strategia è così importante più dell'idea in sé è quello che fa realmente la differenza prima idea imprenditoriale creare un business in ambito alimentazione perché ti parlo di questo business so che ce ne sono tantissimi in giro ma è un argomento che andrà sempre che cos'è che puoi fare ovviamente non devi creare un business sull'alimentazione in generale ma devi scegliere una nicchia specifica all'interno dell'alimentazione più se specifico sul tuo pubblico più capisci a chi ti stai rivolgendo allora più sarà facile farcela per esempio invece di parlare di alimentazione in modo generale puoi parlare dell'alimentazione da avere in gravidanza per chi è anche vegano e così via ovviamente sto generalizzando ma è per darti l'idea e per farti capire che cosa si intende per nicchia quindi devi scegliere un mercato più specifico possibile più sarai specifico allora più sarà facile poi state diversificare il tuo business e vendere il prodotto oppure vendere dei servizi creare un canale youtube vendere dei corsi e diversificare i tuoi guadagni questo vale per qualsiasi idea e per tutte le altre idee che ti racconterò in questo video seconda idea di business creare un business in ambito sportivo anche in questo caso è un business che andrà sempre devi però essere bravo a capire il mercato e a diversificare i tuoi guadagni lo abbiamo visto adesso con la pandemia se hai solamente un centro sportivo il giorno che non andrà più quel business per qualche motivo che non potrai utilizzare più la tua struttura i tuoi guadagni passano dall'oggi a domani a zero quindi devi capire il mercato ed essere sempre pronto a diversificare i tuoi guadagni chi è che ce la sta facendo oggi personal trainer che ce la fa ancora oggi il personal trainer che si è creato per esempio un canale youtube che sfrutta l'online che aumenta e migliora il suo personal brand in modo tale da poter vendere qualsiasi cosa poter vendere i suoi corsi online poter vendere le sue consulenze online ma nello stesso tempo ipoteticamente può anche creare dei prodotti nell'ambito sportivo e così via è un business che andrà sempre parleremo sempre di sport ci sarà sempre lo sport devi essere bravo a capire se quello il tuo ambito che cosa puoi dare nell'ambito sportivo creare un sito web per trovare velocemente un medico o chi può darti una determinata prestazione e quindi fare una ricerca per te per riuscire ad avere il servizio migliore il medico migliore nel minor tempo possibile magari esiste già una piattaforma che fa questo però l'importante è capire cosa vogliono i clienti che cosa è più importante per potenziali cliente per chi cerca un medico anche in questo caso è un business che andrà sempre perché avremo sempre bisogno di un medico che cosa fa la differenza tra te un altro potenziale servizio simile chi crea e chi dà il miglior servizio al cliente e capisce le esigenze più importanti in questo caso è meglio partire in piccolo e migliorarsi man mano non ha senso investire 500 mila euro 100 mila euro cercare investimenti per un qualcosa che non sai se la tua idea è realmente l'idea che aiuta e supporta il tuo cliente quindi è meglio partire in piccolo molte volte e poi migliorarsi migliorarsi man mano non è detto che chi ha tantissimi soldi ce la faccia in modo migliore perché anche facile spenderli nel modo sbagliato non focalizzarti sul fatto che oggi non hai x soldi ma focalizzati sul miglioramento continuo a prescindere da quanto puoi investire oggi nella tua attività perché avere tanti soldi può essere anche controproducente e sbagliare se non sai come investirli bene insegnamento di una lingua straniera in questo caso puoi crearti un forte personal brand sulla tua attività sulle lingue che conosci e sfruttare questo business in tanti modi con l'online delle sponsorizzazioni facendo consulenze creando dei corsi ci sarà sempre chi vuole migliorarsi nelle lingue straniere è un business che se crei e costruisce in un determinato modo allora farai la differenza e andrà sempre bene è importante il modello di business e come crea il tuo modello di business attività nell'ambito del miglioramento della carriera ci sono tantissime persone che lavorano in un determinato posto però vogliono cambiare lavoro vogliono cambiare mansione vogliono reinventarsi pensa alle mamme e alle donne che hanno avuto figli e non riescono più a trovare il loro posto di lavoro tra virgolette ideale quindi c'è sempre chi vuole reinventarsi ma non è facile farlo non avendo determinate competenze sfruttando l'online puoi creare un business per aiutare queste persone a reinventarsi a trovare più facilmente un lavoro o reinventarsi durante la propria carriera lavorativa non esiste più il posto fisso a vita o fare quel lavoro per tutta la vita con una determinata mansione ci sarà sempre mercato per questo prodotti cosmetici maschili anche in questo caso è un business in evoluzione e non passerà mai di moda anzi andrà incrementando nel tempo l'unico mio consiglio è di focalizzarti su un elemento specifico e non essere generico su quindi creare dei cosmetici generici ma puntare per esempio a un prodotto a un elemento particolare che hanno i tuoi cosmetici per uomo è importante poi capire chi è il tuo cliente che il tuo potenziale cliente per capire a cosa hai più interessato in modo tale da creare il prodotto specifico per quel cliente come fai a vendere poi questi prodotti cosmetici è importante prima crearsi una community ai due opzioni o ai tantissimi soldi da investire per far conoscere il tuo prodotto prima di incominciare a generare guadagni oppure puoi prima farti conoscere appena creato una community allora incominciare a vendere il tuo prodotto è il caso di clio makeup lei ha iniziato con dei video tutorial su youtube non ha creato subito il rossetto l'ombretto e così via quello è stato uno step successivo se non avesse avuto una community dietro non avrebbe venduto i suoi prodotti il prodotto l'ha creato dopo prima guadagnato e poi rinvestito in guadagni per creare un prodotto fisico e questa è una cosa che puoi fare anche tu quindi prima la community e poi l'eventuale prodotto fisico business riguardante i bambini i genitori spenderebbero qualsiasi cifra comunque sono molto propensi a spendere determinate cifre per i propri figli ci sono dei canali youtube per bambini come in me contro te che vanno tantissimo e poi hanno creato il merchandising il film attorno alla loro figura e i bambini vanno pazzi per i me contro te e quindi portano i genitori ad acquistare i prodotti specifici libro specifico farli andare al cinema a vedere il loro film e così via ci saranno sempre i bambini e ci saranno sempre dei genitori che vogliono vedere felici i propri figli sia un brand dedicato ai bambini fatto in un certo modo può crearti un guadagno può essere una buona idea di business poi state creare il miglior modello di business per guadagnare canale youtube su una nicchia specifica youtube è ancora vivo tra noi e nonostante ci siano sempre nuovi social youtube continua a funzionare per creare un proprio personal brand per creare una propria community e poi guadagnare sia da youtube che da altre attività come i corsi online un prodotto fisico un prodotto digitale una volta che hai la community puoi guadagnare da tante altre cose ok ci vuole tempo e perseveranza azione continua ne parlo in diversi video però è un qualcosa che funziona ancora oggi se vuoi una consulenza in ambito youtube perché vuoi aprire un tuo canale puoi iscrivermi e la mia mail te la inserisco in descrizione nel video business sulla finanza personale sempre più persone cercano informazioni in ambito investimenti risparmio gestione soldi è un qualcosa che sarà sempre di moda perché avremo sempre voglia di avere più soldi di risparmiare di investire di capire come gestire al meglio i soldi che abbiamo creare un business in questo campo e poi evolverlo in base a come si evolve il mercato è un'ottima idea business in ambito crescita personale ovviamente non ti sto parlando della crescita personale in modo generico ma creare un blog un canale youtube specifico o sulla meditazione o sul minimalismo o sulla gestione del tempo su un qualcosa di più specifico della crescita personale e più specifico sei più capisci che il tuo cliente più ti sarà facile arrivare a queste persone ed è un ambito anche questo sempre verde e in continua espansione quindi va bene oggi che ti sto facendo il video ma varrà sempre dare un servizio video con i droni sono sempre più richieste le riprese dall'alto per diversi lavori quindi se hai un drone ti specializzi in ambito droni puoi realizzare per dei clienti dei video per gli hotel per i matrimoni ma per qualsiasi cosa puoi creare dei video con i droni dall'alto ma anche per aumentare il turismo in una certa zona oppure lavorare con i blogger ci sono tantissime attività che puoi fare se ti specializzi con i droni e quindi offrire poi quel servizio alle persone ovviamente devi farti conoscere e devi far sì che le persone scelgano te al posto degli altri business in ambito sostenibilità e ambiente guardiamo sempre più con attenzione all'ambiente creare un business di servizi business di prodotti in quell'ambito lì è un qualcosa per cui le persone prestano sempre più attenzione per esempio creare dei vestiti con materiali sostenibili che si stirano facilmente potrebbe essere un'idea e così via business in ambito osteopatia fisioterapia benessere della persona abbiamo sempre più bisogno di questi specialisti perché stiamo tante ore seduti prima o poi abbiamo bisogno di un check up quindi se si riesce a creare un business attorno a questi servizi che vada oltre il semplice fisioterapista puoi creare un qualcosa che andrà sempre sarà sempre richiesto dalle persone perché avremo sempre qualche dolore da qualche parte ma adesso la parte più importante del video perché la strategia è la cosa più importante perché se non hai una strategia se non sai perché stai facendo quello che vuoi fare non crei un modello di business dove definisci costi le entrate cerchi di capire come farlo funzionare come diversificarlo nel tempo come avere una visione di lungo periodo non sai chi sono i tuoi competitor allora l'idea che vale zero più importante della tua idea e la strategia dietro la tua idea quasi qualsiasi business può andare bene nel tempo ma quello che fa la differenza e l'evolversi nel tempo quindi non pensare il mio business è andato bene così per dieci anni andrà bene per altri cento anni non è così perché ci volviamo quello che funzionerà tra dieci anni tra vent'anni non è quello che funziona ora dobbiamo avere sempre un occhio al futuro capire cosa può funzionare diversificare le nostre entrate per riuscire sempre a guadagnare non fossilizzarsi sul abbiamo sempre fatto così e andrà bene sempre in questo specifico modo l'ingrediente critico è alzare le chiappe e fare qualcosa è così semplice un sacco di gente a fantastiche idee ma sono pochissimi quelli che si siedono e lavorano duro ogni singolo giorno non domani non la prossima settimana ma oggi il vero imprenditore è un uomo d'azione